Un 2024 all'insegna del protagonismo delle scuole, nello specifico dei servizi educativi del Comune di Pesaro, che con questa campagna e questa serie di iniziative inaugurano ufficialmente un anno straordinario dedicato alla cultura, il 2024. La campagna Sono qui, quando sono contesto con te, relazioni attente per il benessere delle bambine e dei bambini, è un'iniziativa che si articola in diverse attività. Sabato mattina scuole aperte, rotazione, i nidi e le scuole dell'infanzia accoglieranno le famiglie, i turisti e anche i curiosi in attività e laboratori a loro dedicati. Appuntamenti con degli esperti per riflettere insieme sulle conseguenze che l'uso della tecnologia sta comportando e comporta per le nuove generazioni nel rapporto con gli adulti. Lo faremo con degli esperti dal mese di marzo fino al mese di maggio. E ancora l'inaugurazione nuovamente della mostra Arcipelaghi e oggi ho portato in giunta le linee guida, che sono delle linee educative su cui il Comune di Pesaro sta investendo da anni, che si vanno ad aggiungere alle altre tre linee guida già depositate, dedicate all'alimentazione e all'educazione all'aperto. E nello specifico oggi abbiamo votato e approvato le linee guida dedicate al metodo montessoriano e all'educazione delle scienze. Un universo che si esprime e che riflette sull'essere bambino e bambina e un impegno che quotidianamente portiamo avanti con le famiglie insieme per costruire un apesaro migliore. La campagna, sono qui quando sono con te, sto con te, ha una campagna di consapevolezza. Vuole rendere gli adulti consapevoli di quello che accade quando si hanno relazioni con i bambini che sono distratte dalla presenza di altre alternative, in particolare in questo caso parliamo dello smartphone o delle tecnologie che sono l'alternativa oggi più disponibile e più praticata. Quindi si tratta di rendersi conto che la distrazione nella relazione col bambino legata all'utilizzo di tecnologie digitali ha degli effetti sullo sviluppo del bambino. Le conferenze che noi andremo a fare con tre esperti mettono a fuoco alcuni di questi effetti. La prima conferenza che sarà il 25 marzo con il dottor Montirosso che è uno psicologo e psicoterapeuta che ha come titolo Touchscreen Human Touch l'impatto del digitale sulla relazione genitore e bambino e sullo sviluppo infantile. Metterà a fuoco quelli che sono i risultati delle ricerche scientifiche e della riflessione psicologica sulle conseguenze per lo sviluppo soprattutto dei bambini più piccoli ma anche in tutte le età dell'esposizione agli schermi, alle tecnologie digitali e della relazione tra adulti e bambini che si crea attraverso queste tecnologie.